I dinosauri scomparvero dalla Terra circa 66 milioni di anni fa all'improvviso. Quale fu la causa? Un enorme meteorite di circa 10 km di diametro caduto nel Golfo del Messico in prossimità della penisola dello Yucatan. L'impatto alla velocità di 40 metri al secondo provocò forte terremoto, forti tsunami, enormi incendi su quasi tutto il globo, ma l'effetto più vistoso in realtà fu un'enorme nube di polvere densa che oscurò i raggi del sole per settimane e anche per mesi. E quindi la Terra visse un periodo buio di settimane e di mesi e visse un lungo inverno con temperature anche di 10-20 gradi sotto zero. In queste condizioni poche specie riuscirono a sopravvivere. morì il 70% della specie vivente sul pianeta.